Io credo che sia opportuno che non solo uno, ma in tanti, si cerchi di dare realmente spazio ai tanti artisti che ci sono, perché loro suonano nella loro stanzetta, faticano. Essere compositore, essere interprete, essere cantante, essere cantatore è un lavoro, è un lavoro che ha una dignità anche se magari hanno dato questa remunerazione. Non avranno mai le grandi platee, le platee dei talent, uno ce n'è qua, uno scomiglio che capita, dei talent o della visione. Hanno bisogno di esprimersi, perché la loro possibilità di esprimersi si smetterà emozioni con parole e musica. E quando arriveranno queste emozioni, mi dà cosa da compiuto. Ma noi dobbiamo chiedere questo alle ragioni, dobbiamo chiedere questo a tutti. Farsi a dire questi ragazzi, questa iniziativa è emozionabile e sono convinto che dal termine di questa realtà veramente ci sarà un risorgimento della musica italiana, perché ne abbiamo tanto bisogno. Grazie.